Ciao, io sono Alessio ed oggi parleremo di Genus Saturation, pigmenti pronti, già attivati, di ampia dimensione, incapaci di penetrare all'interno della struttura corticale, quindi non adatti per coprire i capelli bianchi e non adatti per schiarire i capelli naturali. Questi prodotti si applicano su capelli già decolorati al fine di ottenere riflessi estremamente cangianti e brillanti. Nell'ultima pagina della brochure troviamo infatti una tabella da me realizzata che riporta i corretti livelli di schiaritura da ottenere per ottenere il massimo del riflesso, la massima apertura del colore. Ovviamente tutte queste nuance possono essere applicate anche su un capello non decolorato per dare soltanto una sfumatura o un piccolo riflesso. 12 nuance già pronte senza alcalinizzanti e che non hanno necessità di un attivatore da applicare su capello lavato e tamponato. Lasciate in posa da 15 a 30 minuti a seconda dell'intensità desiderata. Successivamente risciacquate ma non lavate con lo shampoo, bisogna semplicemente acidificare con un conditioner. Lo stesso conditioner risulta essere perfetto per smacchiare eventuali depositi di prodotto sulla pelle, molto di più di quanto non potrebbero fare i normali smacchiatori utilizzati per la colorazione ad ossidazione. Genus Saturation, un prodotto semplice, facile e dà risultato estremamente brillante. Grazie e buona giornata!